Ciao, oggi vi presentiamo le analisi dei dati che riguardano l'indice di qualità dell'umore e le strategie di resilienza. Abbiamo chiesto al nostro campione, nella situazione Covid-19, quanto riesci a mantenerti attivo secondo i tuoi normali standard? Proviamo adesso a dare una lettura ragionata delle risposte. Il 9% del campione ha risposto per nulla, il 42% del campione ha risposto poco, il 36% del campione ha risposto abbastanza e il 13% del campione ha risposto molto. Dopo aver analizzato le risposte, possiamo dire che metà del campione non sembra percepirsi attivo secondo gli standard di vita prima dell'emergenza. Solo poco più di una persona su 10 è pienamente soddisfatto del proprio livello di attività. Arrivederci, alla prossima analisi! Grazie a tutti!